la calotta con pezzi di quella quando diventano proprio sottili, sottili, sottili non fanno più problemi è la rivara sottile magari se li facciamo su tutti li saldiamo insieme esce in retro marcia lui non può uscire in retro, io vado a prenderlo si esce in retro no esci in retro, se no ti tiro, se vuoi uscire in avanti ti tiro grazie grazie grazie